Gli occhiali da sole vengono spesso considerati dagli acquirenti un accessorio di bellezza. In pochi però sanno che gli occhiali da sole rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, destinati a salvaguardare la persona da eventuali rischi di danni legati alle radiazioni solari. Esistono delle specifiche direttive europee che garantiscono i requisiti essenziali di sicurezza. La loro applicazione per gli occhiali da sole è certificata verso il consumatore dalla presenza della marcatura CE e dalla nota informativa che accompagnano il prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. La loro assenza è sinonimo di prodotto potenzialmente pericoloso. Produrre opporre in commercio occhiali da sole privi di tali indicazioni o marcature equivale quindi non solo ad un illecito punito da severe sanzioni, ma ad una messa a rischio per la salute del consumatore. Assieme alla nota informativa che contiene le indicazioni di filtro e di corretto utilizzo degli occhiali da sole, il produttore deve indicare i propri dati per la tracciabilità del prodotto. Chi commercializza occhiali da sole ha l'obbligo di controllare che i prodotti siano accompagnati alla vendita da tutte le informazioni e marcature obbligatorie. Chi acquista deve esigere prodotti sicuri. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio metrologia legale e sicurezza prodotti della Camera di commercio di Firenze in via Orcagna 70 oppure per email all'indirizzo attività.ispettive.fi.camcom.it oppure contattare il numero 055 66 4264.